Musica Sabato 28 dicembre, buongiorno, benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione in regia, c'è Lucio Felicita. Quella di ieri è stata una giornata intensa ed emozionante, ricordando i 50 anni della nascita della regione Molise. L'autonomia della regione, ha detto il ministro della difesa Mauro, arrivato in occasione delle celebrazioni, non è a rischio. Il rappresentante del governo, tra l'altro, si è soffermato sulla necessità, come dire, di armare la pace. Ce ne parla Giovanni Minicozzi in questo servizio. La conferenza stampa del ministro Mario Mauro, una tavola rotonda sul futuro del Molise, con Paolo Frattura, Vincenzo Niro, gli ex presidenti Marcello Veneziale e Gianni Di Giandomenico, Monsignor Giancarlo Bregantini, il prorettore dell'università Fabio Pilla e lo stesso ministro Mauro. A seguire il concerto al Teatro Savoia dell'Orchestra e Coro del Conservatorio Perosi, hanno chiuso le tante manifestazioni organizzate per celebrare il 50esimo anniversario dell'autonomia regionale. In particolare, nel corso della tavola rotonda, si è parlato dei grandi passi in avanti fatti dalla regione in questi 50 anni, ma anche delle difficoltà economiche attuali che mettono a rischio l'autonomia con ipotesi di accorpamento delle piccole regioni. Tutti, perciò, hanno chiesto al ministro di farsi portavoce con il governo per evitare azzardate semplificazioni istituzionali. Si amministra una regione giovane e con qualche problema di sopravvivenza? No, non credo che ci sia un problema di sopravvivenza per il Molise. Il problema invece è far sopravvivere le idealità del regionalismo italiano, vale a dire consentire al nostro Paese, attraverso lo strumento che non è solo amministrativo, è anche politico, culturale, storico, identitario delle regioni, di dare il meglio nel servizio ai cittadini. Con il riferimento alle polemiche sui cacciabombardieri F-35, il ministro ha poi ribadito la sua teoria sulla pace armata che ha spinto i consiglieri del Movimento 5 Stelle, Patrizia Manzo e Antonio Federico, a disertare l'appuntamento. Qualche contestazione sulla sua teoria? Per amare la pace bisogna armare la pace. La teoria non è mia, intanto, del mio illustre predecessore, il professor Beniamino Andreatta, che l'ha pronunciata come capogruppo del Partito Popolare Italiano nelle aule parlamentari, credo, molti anni fa. e Andreatta aveva ben chiaro che amare la pace vuol dire appunto che ci sono delle persone che si assumono responsabilità, si mettono di mezzo quando ci sono delle crisi, esattamente come farebbero nel bel mezzo di una discussione in un vicolo di un paese come Campobasso, quando c'è una tensione magari familiare, se non c'è qualcuno che si mette di mezzo, magari rischiando una coltellata, magari rischiando un pugno in faccia, non si arriva al dialogo e non si arriva alla pace. Se chi si mette di mezzo è anche provvisto di buona stazza, cioè può esercitare un minimo di deterrenza, è più facile arrivare a quel risultato. Sullo sfondo delle celebrazioni restano anche le polemiche fatte da alcuni ex consiglieri che, a loro dire, sarebbero stati esclusi dall'organizzazione degli eventi dopo aver proposto, tra le altre cose, di intitolare la sede dell'Aggiunta regionale al primo presidente Carlo Vitale. Vincenzo Niro ci ha riservato il più assurdo degli ostracismi, negando di fatto un pezzo di storia regionale tra i più significativi per lo sviluppo del Molise e l'episodio, hanno fatto sapere alcuni ex consiglieri, non può passare sotto silenzio, lasciando campo libero solo ai valori di facciata. Ed ora la giudiziaria resta ai domiciliari Roberto Colella, l'imprenditore di Pescara, arrestato dai carabinieri del NAS nell'ambito dell'inchiesta della procura di Larino sui prodotti ospedalieri contraffatti. Lo ha deciso il GIP Rinaldo D'Alonzo dopo l'interrogatorio di garanzia in cui il fornitore di 70 anni si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nei prossimi giorni il suo difensore, l'avvocato Marco Di Giulio, si rivolgerà al Tribunale del Riesame per chiedere la revoca della misura cautelare. Colella, accusato di frode in pubbliche forniture insieme ad un'altra persona, potrà comunque lasciare l'abitazione per motivi di salute. Capodanno ormai ha le porte, non mancano anche idee originali per vivacizzare la prima notte del 2014. Tra queste quella dell'Alexander di Campobasso. Sentiamo in proposito Giuseppe Carrera. Vincere a Capodanno sull'argomento sono stati scritti e girati tanti film, lotterie, biglietti da ritrovare, situazioni paradossali hanno riempito la filmografia italiana e non solo. Ed ora che la crisi si fa sentire a 360 gradi, anche il mondo della musica da ballare diventa più concreto e punta a sorprendere stravolgendo i canoni. Alla discoteca Alexander, storico locale di punta del capologo, nella notte del 31 dicembre nessuna ospitata di personaggi famosi che a volte per un drink e qualche foto pretendono cachet anche a più cifre. Il gruzzoletto che sarebbe stato dedicato al belloccio o alla modella di turno sarà invece trasformato in una inedita iniziativa. Già dalla serata natalizia, altro appuntamento immancabile delle feste, campeggiava l'ingresso della discoteca un'automobile, colore rosso per rimanere in tema, che sarà estratta a sorte nel momento clou della notte di Capodanno, tra i soli presenti alla festa. Una lotteria ormai non fa notizia, ma entrare a piedi in discoteca ed uscire al volante di un'auto certamente non è un fatto consueto. Vogliamo dedicare tutte le nostre energie e la nostra inventiva allo staff che tutto l'anno garantisce qualità nel divertimento e al pubblico che sabato dopo sabato ci dimostra il suo affetto, ha detto Michele Stella presentando l'iniziativa. Un gesto di concretezza e di realismo che farà sicuramente felice uno dei tanti giovani che dopo un Capodanno in discoteca praticamente subito potrà salire al volante di questa Peugeot 107. 44 tappe distribuite su tutto il territorio e divise tra visite guidate, mostre, sale espositive, iniziative di animazione, degustazioni e menu particolari. E una sintesi del programma Avery Special Christmas, il Natale molto speciale in programma a Yeltsin. Da questo pomeriggio e fino a tarda notte il Paese sarà animato da decine di eventi mettendo in mostra anche la realtà imprenditoriale e artistiche del territorio. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Yeltsin in collaborazione con numerose realtà associative. Bene, con la nostra informazione ci fermiamo qui. Adesso la rassegna stampa. Iniziamo con il giornale del Molise.it In evidenza il Molise celebra i suoi primi 50 anni la sede della regione intitolata Carlo Vitale. La sede della presidenza della giunta regionale prende il nome del primo presidente della regione Molise e diventa Palazzo Carlo Vitale. Ieri la cerimonia di intitolazione. Il governatore Frattura, alla presenza della signora Vitale, delle tre figlie, Assunta, Anna, Lisa e Francesca, ha scoperto la targa posta all'ingresso del palazzo in onore del politico eletto nel 1970 a soli 40 anni. Vediamo anche le altre notizie. Scorriamo la home page del giornale del Molise. A Termoli insorge il comitato acqua pubblica. Tante parole e pochi fatti sulla nuova gestione. Lavoro nero e niente sicurezza sui cantieri denunciati 12 imprenditori edili della provincia di Isernia. Sulla destra picchia la moglie. Venafrano denunciato d'allarma. Minacce con coltello. Due denunce a Isernia. Le altre notizie, sempre dalla regione. Isernia la finanza sequestra 400 mila euro di botti nei guai commerciante che voleva corrompere i militari. Furti in appartamento. 34enne di Isernia arrestato dai carabinieri. Poi si parla del successo per il prasepe vivente di Caroviglia. Montenero di Bisaccia grande successo per la trentesima edizione del prasepe vivente nelle grotte arenarie. Dallarino in arrivo 400 mila euro per la raccolta differenziata. Siamo adesso a Isernia. Ladro acrobata cade dal balcone e si frattura una gamba denunciato per tentato furto. Si parla anche dell'autovelox di macchia di Isernia. La Fiadel, i legittimi, i verbali, a carico di chi ha presentato il ricorso. Andiamo a vedere primo piano Molise. L'apertura è dedicata ai 50 anni della regione. Mauro, il Molise sopravviverà. Ospite per i 50 anni della regione, il ministro rassicura sull'autonomia ma invita a guardare oltre i confini. La visita del titolare della difesa, grande sponsor degli aerei F-35 è stata accompagnata dalle critiche di Pax Cristi e Grillini. Andiamo alle notizie sotto la testata. Boiano lavori in corso da 12 anni, l'incubo di chi abita a terre longhe. A Santo Stefano appartamenti allagati. Da Termoli 18 indagati per la morte della 32enne di Sansevero. ieri è la Santimoteo, è seguita l'autopsia. Ci spostiamo di segna, c'è la cronaca. Ancora la finanza blocca un tir sulla Trinina. Trasportava 7 tonnellate di botti illegali. La merce sequestrata avrebbe fruttato 400 mila euro. Torniamo ancora alle celebrazioni per i 50 anni della regione Molise. La cerimonia in via Genova, palazzo Carlo Vitale. La famiglia scelta che colma un grande vuoto. primo presidente ma anche sindaco di Campobasso a soli 32 anni. Era la promessa della politica del capoluogo. C'è una notizia che riguarda il arcivescovo di Campobasso Boiano. Rivoluzione Bergoglio alla CEI. Brigantini in pole position. Il vescovo nella rosa dei probabili segretari. Ora alcune notizie. Vediamo dall'Abruzzo. Vasto, tre incidenti e cinque feriti. Bilancio di un giorno di pioggia. Il calcio a 5. L'Esernia cerca riscatto contro la Fuente. Mentre ancora dall'Abruzzo il presidente Prospero lascia la vastese. Chiudiamo. Primo piano per andare a vedere il quotidiano del Molise. Anche qui analoga apertura. Mauro mette in salvo l'autonomia. Giornata conclusiva di celebrazioni con l'intitolazione del Palazzo della Giunta all'ex presidente Vitale. Le rassicurazioni del ministro in occasione del cinquantenario del Molise. Intervento anche da parte del presidente della regione. Frattura dedichiamo questo giorno ai molisani di ieri, oggi e domani. Sulla spalla e nel colonnino parla il presidente dell'Assemblea regionale Niro. Ora pensiamo a costruire il prossimo mezzo secolo di storia. Sulla sinistra Termoli, morta in corsia. La Asrem allontana i sospetti. Mentre a centropagina nel tir a 7 tonnellate di botti. Chiede ai finanzieri di chiudere. Un occhio offre 10.000 euro, ma in cassa una denuncia per corruzione. Da Campobasso torna libero il diciottenne accusato di stalking dalla ex. Poi notizie di sport. Il calcio, lupi, farina. Da agosto sapevo che avremmo vinto. C'è anche uno speciale sul quotidiano. Un anno di Sernia dalla salvezza alla speranza di rilanciarsi. Ancora serie D. Miani spinge il Termoli. A gennaio partiamo forte, dice. Fine il calcio a 5. Sernia arriva in Lucera per l'ultima del 2013. Chiudiamo anche il quotidiano per dare uno sguardo al sannio. L'autonomia va difesa in un'ottica europea. Così il ministro della difesa, Mario Mauro, ieri molise in occasione del cinquantenario della regione. Tra le iniziative programmate, l'intitolazione della sede di Via Genova al governatore Carlo Vitale. Siamo sulla pagina regionale del Tempo. In evidenza la cronaca. Dai Sernia, 7 tonnellate di botti illegali sequestrati dalla Guardia di Finanza. In notizia in breve, Venafro riempie di botte la moglie e la manda in ospedale. I Sernia ancora con un coltello tra le mani minaccia. Il padre è stato denunciato. Infine i carabinieri mettono i sigilli a 6 cantieri irregolari. La notizia arriva dai Sernia. Ed ora passiamo ai quotidiani nazionali. Iniziamo con il Corriere della Sera. Il pasticcio degli emendamenti. Vediamo un po'. Si parla del mille prorogo. Sì, al decreto. Norme per Roma. Basta affitti d'oro. Intanto su le tariffe della luce. Richiamo del Quirinale. Più rigore. Grasso critica il governo. Chiudiamo il Corriere della Sera. Passiamo al Sole 24 ore. Un miliardo per il lavoro. Ma poi si parla anche di autostrade. Pedaggi più cari del 4%. La mappa dei rincari delle tariffe dal 1 gennaio. In attesa del via libera ministeriale. Le bollette della luce aumentano dello 0,7%. Fermi quelle del gas. Dalla Sole 24 ore adesso al tempo. Il governo salva Roma ma non il sindaco. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera ai fondi per la capitale e blocca l'aumento delle tasse previsto da Marino. Ma per la nuvola di Fuxas non bastano i milioni di EUR S.P.A. Poi ci sono alcune inchieste del quotidiano romano in ville e giardine abbandonati. Chiudiamo il tempo. Andiamo a vedere l'apertura del giornale. Spegnere Napolitano. La proposta di Forza Italia. I parlamentari azzurri vogliono boicottare il messaggio TV di fine anno. Non guardatelo. Berlusconi in riunione ad Arcore sui club. Sono già 6.800. L'obiettivo è arrivare a quota 12.000. Dal giornale adesso al quotidiano dei Vescovi a venire. Il Colle richiama tutti decreti come si deve. Moniton di Napolitano a vigilare sugli emendamenti. Ok del governo al mille proroghe che contiene anche lo stop agli affitti d'oro. Salvati dunque 6 miliardi scrive l'avvenire di fondi UE per lavoro e imposte. Uno sguardo adesso all'unità. Basta con i decreti salva tutto. Napolitano massimo rigore sugli emendamenti. Dice grasso interverrò ma dal governo arrivati troppi sì. Ok al mille proroghe. 6,2 miliardi per lavoro e imprese. Parla anche Serracchiani. Letta deve avere più coraggio. Chiudiamo l'unità per passare a libero. Arruoliamo gli immigrati. Straniero e maschetto. Scrive il giornale di Maurizio Belpietro. Il ministro della difesa Mario Mauro. Boccia lo ius soli. Invece di dare la cittadinanza a chi nasce qui. Cambiamo la Costituzione e concediamola a chiunque presti servizio nelle forze armate. È stato detto. Ora vediamo anche l'apertura del manifesto. I dieci emendamenti. Vediamo un po'. Napolitano ordina le Camere di non inserire nei decreti legge troppe modifiche rispetto ai testi presentati dal governo. Altrimenti li respingerà. Grasso e Boldrini preparano il bavaglio ai regolamenti. E il Parlamento va avanti nel nulla. Chiudiamo anche il manifesto. Siamo adesso ai quotidiani regionali. Il mattino si ai fondi salva Roma ma è scontro. Scrive il quotidiano napoletano. Il Consiglio dei Ministri vara il mille proroghe. Parla anche dei magistris indignato per le disparità. Così il sindaco di Napoli. Napolitano intanto striglia governo e Camere più rigore sui decreti. Ora siamo sulla gazzetta del Mezzogiorno. Napolitano bacchetta tutti. Modificate i regolamenti parlamentari. Letta intanto 2014 della riforma. Ok al mille proroghe. Alt agli affitti d'oro da 400 milioni d'euro per Roma. Siamo sulla Repubblica. Rimpasto Renzi in calza letta. Titolo di apertura. Il segretario del PD all'attacco. Il Premier serve una riforma dei processi legislativi. Pressing di Grillo e Forza Italia sull'impeachment del Colle. Napolitano intanto alle Camere. Più rigore sui decreti. Lavoro sbloccati 6 miliardi nell'Unione Europea. Sulla stampa un tesoretto per imprese e lavoro. Ridistribuiti 6 miliardi di fondi UE che rischiavano di perdere. Varato il mille proroghe. Gli affitti ora possono essere disdetti. Intanto Napolitano alle Camere. Basta stravolgere i decreti. Interviene anche il Presidente del Senato, Grasso, che dice che sono pronto ad intervenire. Il messaggero salva Roma. Ok. Scontro sull'IRPEF. Approvato il mille proroghe. Aumentano le sigarette. 6 miliardi UE sul lavoro e imprese. Napolitano bacchetta il Governo e le Camere. Più rigore su decreti ed emendamenti. Siamo adesso sulla Gazzetta dello Sport. Parla Brandelli sul Mondiale. Noi siamo i migliori. Non siamo i migliori. Ma possiamo battere i migliori. Brasile, Argentina, Germania e Spagna sono favorite, dice il GT. Leviamoci dalla testa l'idea di essere noi i più forti. Infine c'è anche una notizia di Sport. Ma è cronaca. Follia, stecca, coltella, la socia. L'aggressione in una palestra dopo una discussione. Lei è grave. Loris, ex campione di box, arrestato a Rimini per tentato omicidio. Bene, tutto anche per questa edizione. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alle 14 con il telegiornale. Arrivederci. Grazie per averci seguito.